Femminicidio di Miglianico, confessione shock, il killer carbone, volevo uccidermi anch'io il 39enne che del lunedì ha sparato alla moglie e lo ha detto al giudice nel giorno della convalida dell'arresto. Legge di bilancio che rally in regione nel mirino i 5 milioni del caro Bollette, la minoranza attacca la giunta Marsiglio, Lanci invece chiede un incontro alla Premier Meloni. Fabbrica di esplodenti a notaresco e polemica sulla sicurezza per i cittadini, dosi di cocaina pronte allo spaccio a Pescara, la Guardia di Finanza arresta Puscher 50enne. Serie C, ultima sfida dell'anno, il Pescara è partito per Avellino, fischio d'inizio domani alle 17.30, titolare Vergani al posto di Lescano. Un cordiale saluto ben ritrovati a questa nuova edizione del Tg Abruzzo. In apertura la cronaca giudiziaria avrebbe confessato al giudice, oltre che l'omicidio, l'intenzione di uccidersi dopo l'assassinio. Giovanni Carbone nel giorno dell'udienza per la convalida dell'arresto per il femminicidio di Miglianico. Sergio Cinquino. Avrebbe anche pensato di farla finita subito dopo l'omicidio Giovanni Carbone, 39enne originario di Matera, che lunedì mattina ha freddato con un colpo di pistola alla convivente Eliana Maiori Caratella, 41enne bancaria, a Miglianico sparandole un colpo alle spalle con un'arma detenuta illegalmente, che poi si è costituito nella caserma dei Carabinieri del paese in provincia di Chieti. Nel racconto del pregiudicato di origini lucane che aveva contatti con la malavita pugliese fatto nel giorno dell'udienza di convalida dell'arresto al giudice per le indagini preliminari del tribunale teatino Luca De Ninis, ci sarebbe anche il pessimo rapporto con la famiglia della vittima che ostacolava il rapporto tra i due, di cui l'idea di un omicidio-suicidio per un proposito che l'uomo sarebbe riuscito a portare a termine solo a metà, un amore impossibile non solo per gli ostacoli posti da chi non vedeva di buon occhio che la donna professionista che lavorava nella filiale dell'intesa San Paolo di Pescara vivesse insieme con i suoi due figli nati dal precedente matrimonio con lui, che aveva precedenti penali denunci a carico, ma anche per i rapporti difficili tra i due con la donna che aveva probabilmente deciso di lasciarlo anche per problemi economici, visto che Carbone era disoccupato da tempo e avrebbe mostrato segnali di pentimento l'uomo durante l'interrogatorio confessando, oltre che l'omicidio, anche il precedente proposito di andare via con la compagna lontano da un mondo e un ambiente che non l'avevano mai accettato. Cosa sia scattato nella mente dell'assassino prima e dopo il femminicidio che ha scosso la tranquillità della piccola Miglianico, saranno gli inquirenti a cercare di capirlo, aiutati anche dall'esame autoptico che partirà dal colpo della calibro 9 sparato a bruciapelo. Cercheranno di capire gli investigatori del nucleo operativo della compagnia di Ortona e i colleghi della stazione di Miglianico insieme con il PM Lucia Campo che conduce le indagini se davvero quella valigia già pronta in macchina con le stecche di sigaretta preparate da carbone all'interno dell'auto servissero per il carcere di Lanciano dove ora l'uomo è rinchiuso o per programmare una fuga alla quale l'uomo avrebbe poi rinunciato. La pagina politica, l'opposizione in consiglio regionale attacca la maggioranza guidata da Marco Marsiglio nella Mirino e 5 milioni di euro da destinare alle famiglie per il caro Bolletti e la servizio di Sara del Vecchio. Giorni movimentati in consiglio regionale all'Aquila da qui fino al 30 dicembre quando si dovrà approvare, salvo i previsti particolari la manovra da 6 miliardi di euro a tenere banco i 5 milioni di euro da destinare alle famiglie per far fronte ai rincari l'opposizione, in particolare il PD e il Movimento 5 Stelle hanno attaccato la maggioranza su questo punto in particolare secondo il capogruppo dei DEM Silvio Paolucci questi 5 milioni di euro approvati il 13 dicembre scorso sarebbero spariti dalla legge di bilancio. Inizia malissimo, hanno tolto i 5 milioni di euro che erano riservate alle famiglie per il caro Bolletti quelle risorse che avevamo messo in campo appena 3 settimane fa dopo un ostruzionismo duro giorni e settimane di battaglie un'aggiunta vergognosa fa un atto vergognoso quello di arrivare al bilancio e togliere 5 milioni di euro alle famiglie peraltro con una dicitura sono revocati gli stanziamenti delle leggi regionali che avevano autorizzato senza indicare a chi si rivolge quanto si toglie e come si toglie ecco è davvero molto grave che si porti un bilancio lo si fa discutere in appena 48 ore si nasconde tutto a tutti alle parti sociali alle parti datoriali, alle associazioni di categoria e si tolgono 5 milioni di euro per il caro Bolletti per le famiglie in realtà tale somma dovrebbe essere ferma finché l'aggiunta Marsilio dopo il via libera alla manovra delibererà la variazione dello strumento economico veniamo ora all'appello lanciato da Lanci che chiede un incontro alla premier Giorgia Meloni per quanto attiene la nuova legge di bilancio Chiara Bonatti Lanci Abruzzo appoggia la richiesta del presidente nazionale Antonio De Caro per un incontro urgente con il presidente del consiglio Giorgia Meloni per presentare le esigenze dei comuni italiani i comuni sono in difficoltà e con la nuova legge di bilancio avranno ancora meno risorse da dedicare ai servizi dei cittadini i comuni abruzzesi oltre alla lotta del covid e dei rincari dovuti alla guerra sono ancora inoltre alle prese con i terremoti del 2009-2016 Insomma come Anci Abruzzo ho sostenuto abbiamo sostenuto l'azione del presidente De Caro e continueremo a farlo per avere questo incontro istituzionale col presidente del consiglio che al momento ha completamente disatteso tutti gli impegni assunti nei confronti degli enti locali anche ad esempio nel corso dell'ultima assemblea annuale dell'Anci che si è tenuta a Bergamo non è assolutamente possibile in questo momento non tenere in considerazione la situazione degli enti locali anche a causa degli effetti del conflitto sulla crisi energetica e sull'impatto energetico sui bilanci dei comuni che rischiano di non poter garantire servizi e diritti dei cittadini il governo deve garantire assolutamente una copertura assoluta dei mancati dell'impatto sui bilanci e quantomeno evitare che si arrivi addirittura al paradosso come si sta prefigurando di tagli ulteriori quindi neppure le risorse ordinarie le stesse risorse ordinarie degli scorsi anni garantite da parte del governo una scelta totalmente sbagliata che non tiene in considerazione l'attività straordinaria che i comuni svolgono quotidianamente che hanno svolto nel periodo della pandemia e che in questo momento stanno portando a attuare tutti gli strumenti del PNRR tutte le parole spese nel corso di queste settimane di questi mesi sono state completamente disattese da una legge di bilancio che deve assolutamente essere cambiata quindi l'incontro urgente immediato con i sindaci e con gli enti locali che non possono subire questi torti Qualora non riceveste risposta siete pronti a prendere nuove azioni? Vedremo, vedremo quale sarà l'interlocuzione istituzionale auspichiamo assolutamente che ci sia un'apertura al confronto immediato da parte del Presidente del Consiglio e del governo perché lo dobbiamo tutti alle nostre comunità e ai nostri cittadini E' chiaro che se non dovessero esserci poi riscontri spero veramente che non sia così poi con il Presidente De Caro valuteremo tutte le iniziative da intraprendere E' stato arrestato dopo le segnalazioni pervenute al 117 della Guardia di Finanza di Pescara i militari del nucleo di Polizia Economico-Finanziaria infatti dopo la telefonata anonima di un cittadino sono riusciti a bloccare l'attività di spaccio di sostanze stupefacenti in zona colli di un cinquantenne padre disoccupato pluripregiudicato con diversi precedenti L'operazione rientra nel piano d'azione Drug Market L'uomo fermato dai finanzieri è stato trovato con nove involucri di cellophane addosso oltre a dosi preconfezionate di cocaina pronte per essere immesse sul mercato Nel corso della perquisizione domiciliare i militari hanno sequestrato diverse migliaia di euro in banconote di piccolo taglio altra droga per un totale di oltre 40 grammi di cocaina un bilancino di precisione, sostanze da taglio e materiale utile al confezionamento è scattato l'arresto e la reclusione nel carcere di San Donato a Pescara Veniamo ora ai controlli da parte del comune di Notaresco presso la fabbrica di esplodenti di Via Gallo Chiara Bonatti Il comune di Notaresco dopo le preoccupazioni nate da alcuni cittadini per la fabbrica di esplodenti in Via Gallo ha fatto i dovuti controlli il primo cittadino Diego di Bonaventura spiega che era una fabbrica già esistente sul territorio e nel frattempo si continuano ulteriori verifiche il sindaco di Bonaventura si dice pronto ad accogliere comunque qualsiasi istanza dei cittadini per poter garantire sicurezza sul territorio La notizia che è girata ci siamo anche allarmati che pensavamo che ci fosse una nuova fabbrica in qualche altra zona non avevamo contezza di quelle notizie che arrivavano poi ci siamo informati subito e invece si tratta già di un sito dove c'era un'azienda che faceva materiale esplodente fuochi di artificio e quant'altro adesso stiamo attenzionando stiamo facendo le verifiche opportune per capire se ci sono tutte le condizioni affinché l'attività possa continuare poi avevamo paura che ci fosse una nuova attività in un nuovo sito e non sapevamo chi fosse il proponente invece si tratta di un'azienda che già c'era stiamo facendo degli approfondimenti per capire come muoverci Per quanto riguarda le preoccupazioni dei cittadini si può rassicurare un pochino ma soprattutto contando gli eventi di cronaca che sono successi anche in altre zone dell'Abruzzo si può essere sicuri? No, ecco noi sul fatto che ogni cittadino che porta un'istanza l'abbiamo sempre attenzionato e sarà così sempre l'abbiamo fatto quando c'era già il problema del CIRSU figuriamoci un altro problema di sicurezza è la prima cosa che ci preoccupa la sicurezza della comunità sia di uno che di mille e faremo così perciò stiamo prendendo in carica il problema e capire come muoverci per il da farsi E ora parliamo di emergenza idrica poiché all'Aquila ieri la commissione di inchiesta ha udito il sindaco di Teramo Gianguido D'Alberto sentiamo Chiara Bonatti La consigliera Sara Marcozzi presidente della commissione di inchiesta per l'emergenza idrica ha ascoltato ieri il sindaco di Teramo Gianguido D'Alberto per fare luce sulle motivazioni che lo hanno spinto ad essere l'unico primo cittadino ad astenersi nell'assemblea della Ruzzoreti dall'audizione è emerso un contrasto di vedute tra gli amministratori la commissione continuerà con le dovute verifiche L'audizione del sindaco di Teramo in commissione di inchiesta sull'emergenza idrica ha evidenziato delle discrepanze tra le versioni delle istituzioni teramane il sindaco di Teramo infatti ha evidenziato delle criticità relativamente alla gestione della Ruzzoreti in particolare un forte disavanzo un aumento dei costi operativi a discapito degli investimenti e le cosiddette bollette pazze quelle che un tempo sono state definite bollette pazze cioè 24 milioni di euro che devono essere restituiti gradualmente ai cittadini teramani agli utenti della Ruzzoreti questo in forte contrasto con quanto invece ci aveva dichiarato il presidente della provincia di Teramo di Bonaventura secondo cui tutto andava perfettamente all'interno della Ruzzoreti nella gestione della Ruzzoreti il compito della commissione di cui mi farò carico è evidentemente di chiarire queste discrepanze con dei dati certi con dei documenti in modo tale da dipanare diciamo così questi dubbi La sicurezza a Pescara dove arrivano le sentinelle della legalità ce ne parla Sergio Cinquino Aiutano anche le persone anziane a fare la spesa e a riportarla a casa sono le sentinelle di quartiere già attive dal 7 novembre nella postazione del centro polivalente Britti di via Rio Sparto nel quartiere San Donato a Pescara che presto nell'ambito del servizio di pubblica utilità del comune adriatico saranno potenziate per ora otto percettori del reddito di cittadinanza che svolgono con una funzione di vigilanza e sono state accettate e riconosciute dal quartiere con turni da lunedì al venerdì mattina dalle 9 alle 12 e il pomeriggio dalle 15 alle 19 Innanzitutto diciamo che il nostro servizio di pubblica utilità che noi abbiamo svolgiamo da un mesetto all'interno della città di Pescara che sono i percettori di reddito di cittadinanza è un servizio molto importante come dice la stessa parola sentinelle di quartiere un po' l'occhio vigile dell'amministrazione all'interno del quartiere e provvedono a fare tante attività a tante attività che possono essere dalle attività di manutenzione piccole attività di manutenzione di pulizia di supporto anche attività di aiuto ricordavamo l'esempio delle vecchiette che vanno a fare la spesa magari hanno bisogno di qualcuno che gli aiuta a riportare la spesa perché sole fino a casa per adesso San Donato o poi ci saranno? per adesso partiamo da San Donato e quindi già sono 8 e svolgono attività all'interno di tutto il quartiere di San Donato e dicevo prima ai tuoi colleghi che è un'attività così tanto richiesta anche dagli altri quartieri che li vorremmo e li stiamo anche estendendo anche in altre zone perché è veramente tanta 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 la richiesta che ci viene fatta è un'idea che abbiamo avuto qui a Pescara che abbiamo trasformato in atti amministrativi e che sta avendo tante adesioni nel senso che anche io ho ringraziato pubblicamente anche questi cittadini che svolgono questo servizio che è importante anche proprio per il ruolo che svolgono e adesso una storia che ci porta a Corropoli in provincia di Teramo dove un ex prete parla della scelta di aver lasciato il sacerdozio per formare una famiglia ha fatto il giro d'Italia la storia di Cristina Scuccia nota al grande pubblico per la sua partecipazione ad un noto talent televisivo la quale ha lasciato l'ordine delle suore orsoline della Sacra Famiglia per vivere una nuova vita senza velo ma se per Cristina è ancora presto per parlare di famiglia Luigi Volpe ex sacerdote di Corropoli nella provincia di Teramo ha invece coronato il suo sogno ho cercato di essere me stesso sia in una scelta e anche quando sono passato da una scelta ecclesastrica una scelta d'amore quando ho formato una famiglia con mogli, figli Luigi avverte nel periodo dell'infanzia la sua vocazione entra in collegio poi arriva il sacerdozio ma ad un certo punto incontra l'amore molte persone non capivano il fatto di aver lasciato la chiesa per formare una famiglia solamente che abbiamo superato questo momento grazie all'unione con mia moglie grazie all'unione con mia moglie che ha fatto sì che ci siamo aiutati l'un l'altro ad andare avanti Luigi spiega come è maturata la scelta della famiglia che si è tradotta anche in un diverso approccio verso il sociale e la fede la scelta della famiglia oltre ad essere una scelta di coppia una scelta verso i figli questo è partito dall'esempio che abbiamo dato verso gli altri e questo ha portato anche ad essere aperti sia nell'ambito sociale anche nell'ambito religioso sono stato impegnato nella scuola come insegnante di religione anche all'interno della parrocchia facendo il catechismo aiutando anche il parroco e questo ha fatto sì che ha portato una maggiore apertura e disponibilità verso gli altri l'ex sacerdote attraverso la sua storia vuol lanciare un messaggio d'amore ci sono varie forme d'amore l'amore per Dio l'amore per gli altri e nella mia esperienza questo amore per gli altri l'abbiamo vissuto quotidianamente sia a livello religioso che anche a livello sociale nell'ambito della famiglia la nostra famiglia è una famiglia aperta riceviamo tutti cerchiamo di aiutare gli altri innanzitutto con l'esempio e poi stando in contatto con loro lo spettacolo con il batterista Antonio Falasca che ormai è una vera e propria star su TikTok lui è di Montesilvano conosciamolo meglio nel servizio di Sara del Vecchio la passione per la musica e in particolare per la batteria è nata quando aveva dieci anni dopo aver assistito a un concerto assieme alla famiglia dice ai genitori voglio suonare anch'io e da lì non si è più fermato Antonio Falasca classe 1993 di Montesilvano città in cui vive in cui anche il suo studio ama cimentarsi con il proprio strumento il suo percorso musicale è piuttosto lungo e negli anni ha ottenuto tante soddisfazioni un successo il suo che ora condivide con gli allievi dai più piccoli agli adulti Antonio Falasca batterista ma anche insegnante di musica in quale delle due vesti ti vedi di più? in realtà questa è una bella domanda perché la mia passione nasce per la batteria e nasco come batterista per poi tramutarsi in quella dell'insegnamento in tarda età perché avevo comunque 22-23 anni quando ho iniziato ad insegnare e ho scoperto questa passione appassionandomi poi ai miei allievi in realtà più che all'insegnamento in sé perché i miei allievi sono poi la benzina che muove il motore dell'insegnamento quindi in entrambe in realtà perché riesco a switchare bene sia dal palco allo studio dove insegno quindi in entrambe mi vedo abbastanza centrato i primi bambini che ho preso avevano intorno ai 6 anni e poi all'inizio ci sono state difficoltà perché comunque approcciarsi a bimbi più piccoli non è semplice poi ho capito invece qual è il meccanismo qual è la chiave per per aiutarli e per farli appassionare sempre di più alla batteria e qual è? secondo me la chiave più semplice è trattarli come degli adulti dargli libertà e soprattutto spiegargli le cose come se stessi parlando ad un adulto quindi dargli fiducia e dandogli questa fiducia il bambino si sente gratificato e si applica lui stesso in maniera più concreta sullo strumento sulla batteria e quindi riesce riusciamo poi ad ottenere quello che è il risultato sperato quindi è questa la chiave trattarli come degli adulti ciao a tutti amici sono qui con Maria Pia perché stiamo suonando un bellissimo brano dei music laureata in lingue Scarlet nel giro di un mese e mezzo su TikTok ha raggiunto oltre 17.000 followers e vi sono persone che hanno chiesto di seguire le lezioni di batteria con lui anche a distanza nel giro praticamente di un mese e mezzo sono trovato che avevo praticamente 2.000 follower ad averne 17.000 e più ma soprattutto persone che si sono appassionate grazie alle mie dirette e quindi ho visto ragazzi che non suonavano più che mi scrivevano mi è tornata la passione vedendo te e i tuoi allievi persone che da zero sono venute a lezione stesso da me ma anche persone adulte noi vi salutiamo e vi lascio a Mirella ciao 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 e siamo allo sport il Pescara domani alle 17.30 sarà impegnato ad Avellino nella prima gara del girone di ritorno e ultima partita dell'anno titolare Bergani al posto di Lescano Sergio Cinquino è partito oggi pomeriggio alla volta di Avellino il Pescara di Alberto Colombo che prepara una sfida vinta nel girone di andata e che ora nella prima di ritorno probabilmente dopo quattro sconfitte nelle ultime cinque gare assume un'importanza ancora maggiore per i biancazzurri nel Pescara non ci saranno defezioni Bergani ancora titolare al posto di Lescano in attacco e tutti disponibili ad eccezione dell'infortunato Craia a parte Craia insomma che dopo la partita con il Picerno ha avuto questo piccolo problema muscolare che si risolverà si crede in breve tempo e non sarà della trasferta di Avellino gli altri insomma sono gli stessi la partita la partita per noi è una partita molto 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 importante il momento lo sappiamo tutti che stiamo attraversando sicuramente non è dei più brillanti dei più positivi in termini di risultati in termini di prestazioni e quindi quello che dobbiamo fare domani è veramente una prova di carattere e uscire dal partegno sicuramente cercare di fare punti questo sarà determinante ma ripeto la prova la prestazione sarà necessariamente e doverosamente ricercata nell'aspetto caratteriale nell'aspetto psicologico dove poi siamo magari mancati o in questo momento può essere un tallone ad Achille che influisce anche su il modo il rendimento e la prestazione è il bello e il brutto del calcio perché si può essere magari in una posizione di classifica migliore rispetto all'avversario ma in un momento opposto a livello di rendimento di risultati a livello mentale e oggi c'è questa contrapposizione è chiaro che appunto c'è la volontà di riuscire a chiudere in maniera degna questo anno fatto per buona parte per lunghi tratti condito da risultati e buone prestazioni inficiato chiaramente dall'ultimo periodo per cui è inevitabile che ci sia la considerazione di questa partita diversa rispetto alle altre perché le partite sono sempre tutte importanti ma è chiaro che questo per il momento che stiamo vivendo assume ancora un'importanza superiore alle altre ed ora siamo in promozione ultimi allenamenti per il Teramo si torna in campo a gennaio Giussi Cingoli oggi nel pomeriggio ultima seduta di allenamento all'acqua viva dei Biancorossi prima della sosta natalizia la squadra riprenderà ad allenarsi il pomeriggio di martedì 27 dicembre ritorneremo dopo le feste natalizie il 27 allenarci per fare un amichevole il 30 a Montorrio poi ci rivediamo voi ragazzi dopo Capodanno per il 2 di gennaio speriamo di preparare al meglio la partita al piano alla lente noi non dobbiamo pensare alla Turris noi dobbiamo pensare a noi la Turris sta facendo un grandissimo campionato noi altrettanto ne stiamo facendo un altro ancora non migliore di loro perché se loro sono avanti si ne hanno fatto qualcosa in più ricordiamoci dove siamo partiti non ci nascondiamo noi abbiamo un solo obiettivo che è quello di vincere perché la piazza nostra storia il difendere dei colori sociali di una città non ci deve far contentare di nulla ma dobbiamo soltanto pensare a vincere il campionato di promozione ripartirà l'8 gennaio con la SS di città di Teramo che affronterà in trasferta il piano della lente si attendono novità su dove verrà discutata la prima gara del 2023 del girone di ritorno si potrebbe giocare a Castelnuovo in anticipo al sabato ma la società del Teramo non sarebbe propensa all'anticipo per motivi organizzativi se si dovesse giocare regolarmente di domenica 8 gennaio i campi disponibili sarebbero Morrodoro Notaresco e Pineto per quanto riguarda il problema Stadio Bonolis ancora non c'è niente di concreto su un eventuale accordo da pianificare per tornare a giocare nell'impianto a partire da quest'anno o dal prossimo ma sembra che la società stia lavorando su un progetto ampio per il futuro del calcio in questa città Il Tigi Abruzzo si ferma qui grazie dell'attenzione a tutti voi un buon proseguimento di serata sul canale 79 arrivederci